Il capogruppo IDV al Consiglio regionale, Antonio Autilio, commentando i programmi di investimento per la Val d'Agri, presentati dall'ENI, prefigura un impulso positivo nei rapporti con la Regione, i sindacati, le imprese e le comunità locali, ma, aggiunge, ai buoni propositi per un cambiamento devono seguire azioni concrete. In particolare, sul profilo occupazionale, l'esponente politico rileva come la situazione di partenza vede solo il 33% dei lavoratori attualmente impiegati che risiedono in Val d'Agri. Dunque, aggiunge, la prima misura per le nuove assunzioni dirette o dell'indotto riguarda la garanzia di una quota consistente di avvio al lavoro di cittadini della Val d'Agri e dell'intera Regione. Altro elemento di verifica sarà il programma di attività di formazione per le figure professionali. I giovani laureati e diplomati del comprensorio petrolifero e della nostra Regione, conclude Autilio, hanno bisogno di certezze. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS